Andiamo avanti, Roberto Romano, Presidente del Consiglio della città diversa, nonché già Presidente, sì, nonché grande della passata consigliatura, ma quest'anno, questa sera, secondo noi, in veste di amico principalmente. Bene, andiamo avanti, partiamo con il commento musicale, ecco, adesso ci siamo, stiamo parlando di Miss Portamento, ecco, Miss Portamento, e questa sera, se ne chiudica questa fascia, che è una fascia molto importante, perché per chi fa moda il portamento è un elemento essenziale, oltre all'altezza, e quindi questa fascia va a lei, alla numero 10, Manuela Loppardi! Grazie, grazie a Roberto Romano! Allora!